Mezzi di trasporto bloccati da un sottopasso troppo piccolo e circolazione di camion in un quartiere abitato. Sono le segnalazioni di alcuni residenti di Bellocchi di Fano che ad ogni passaggio di grossi tirre si trovano ad assistere a veri e propri disagi come manovre pericolose in retromarcia nel tratto della rotatoria di via settima strada con danni strutturali a segnaletiche ed anche levitazioni. Oggi a rispondere ai residenti è l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli che sottolinea che il tratto interessato è di proprietà della provincia ma visto il ripetersi del disagio il comune ha già trovato una prima soluzione ad un progetto più ampio. Possiamo dirgli che nel più breve tempo possibile metteremo i divieti di transito dove servono e potenzieremo quelli che già ci sono perché in alcune zone già ci sono però evidentemente non vengono rispettate quindi cercheremo di potenziare un po' e riorganizzare queste strade dove i camion non dovrebbero passare per cercarli di convogliarli nelle strade principali insomma come dovrebbe essere non in queste stradine insomma del quartiere di Bellocchi le strade frequentate dai residenti. Poi posso anticipare che stiamo lavorando su dei progetti di viabilità che riguardano anche questa zona la rotatoria in particolare di via Prima Strada dove c'è la croce diciamo chiamiamola così per poter ridare un attimo, ricomporla un attimo e cercare di migliorare anche la situazione di quella rotatoria rifacendo la segnaletica, riposizionando i parapedonali e dandogli un attimo di più decoro diciamo così anche davanti il bar dove spesso lamentano anche la velocità si faranno dei piccoli interventi dove poter ridurre la velocità questo però non sarà immediato ma nell'arco del prossimo anno cercheremo di non far passare troppo tempo però di risolvere questi problemi.